Siamo a Contrada Vagnola di Villa Celiera dove nelle ultime ore c'è stata una grossa frana di un fronte di alcune centinaia di metri, diverse abitazioni sgomberate e diversi nuclei familiari sono stati costretti a lasciare le proprie case ma l'emergenza non è finita. Il fronte franoso continua a camminare e soprattutto preoccupano le condizioni meteo con la pioggia che continua a cadere e qui a Villa Celiera è arrivato anche l'assessore regionale alla protezione civile Mario Mazzocca. Per adesso parliamo di nove nuclei familiari evacuati per un totale di 16 persone stiamo valutando insieme alla regione, al genio civile, al geologo, stiamo valutando se eventualmente evacuare altre due famiglie. Purtroppo con la pioggia che continua e lo scioglimento della neve a monte del fronte franoso la situazione continua a peggiorare quindi per adesso non si prevede che si fermi purtroppo il movimento franoso quindi la situazione è di assoluta emergenza. Quindi queste persone dovranno stare fuori dalle loro case per molto tempo probabilmente? Purtroppo non è una questione assolutamente risolvibile nel giro di pochi giorni, la situazione attuale di queste famiglie si presume anche a detta dei tecnici che resterà una situazione di emergenza che si potrà arrabbiare almeno per qualche settimana? Dobbiamo dire che è stato un fenomeno abbastanza importante, un fenomeno vasto per oltre 200 metri, di circa 200 metri di fronte, fra l'altro la profondità è ancora in corso di rilievo perché la frana continua a camminare per cui credo che sia una situazione che vada fronteggiata non con mezzi né con risorse ordinarie quindi noi avanzeremo qualche tipo di attività nei confronti della protezione nazionale perché credo che la situazione vada monitorata adeguatamente.